Finisce 0-0 una gara fortemente condizionata dal vento, la terza ed ultima amichevole nella prima parte del ritiro precampionato di San Giovanni Rotondo per la fidelisata del tecnico Panarelli che allo stadio Morra ha impattato con il Barletta 1922 del tecnico Farina tra le sicure protagoniste del prossimo torneo di eccellenza. Una fidelis operaia che ha però già mostrato dalle interessanti trame di gioco, un Barletta di contro più intraprendente nella prima parte di gara con un trio d'attacco davvero importante per la categoria. Fidelis con qualche defezione con l'assenza tra gli altri per un affaticamento muscolare di Cristaldi in avanti, Biancorossi al completo, Loiodice di Rito e Morra in avanti, Grazioso e Ganci a guidare il centrocampo, per la formazione Biancazzurra invece spazio ad Adusa, unica punta con alle sue spalle Minincleri e Prinaria, Manzo e Bolognese le chiavi del centrocampo, Fontana leader della difesa. Gara come detto condizionata dal forte vento su San Giovanni Rotondo ma in cui anche l'agonismo non è mancato, si comincia infatti subito con un'ammunizione per Morra dopo un intervento duro su Busetto, mentre Pollidori su due calci d'angolo spaventa per due volte la retroguardia andriese con due ottime risposte del portiere Anatrella. Poi sale di tono la Fidelis adusa, prima con la sua rapidità, poi un calcio di punizione di Prinaria e infine ancora adusa verso la fine del primo tempo per spaventare la retroguardia del Barletta. Nella ripresa stessi undici in campo per la Fidelis, Andriesi più efficaci in avanti e Bolognese sfiora per due volte il gol del vantaggio con due conclusioni pericolose. Minincleri mostra tutta la sua bravura sui calci piazzati ma il giovanissimo Lovecchio si destreggia bene tra i pali. Lo Iodice alla mezz'ora impegna Anatrella sugli sviluppi di un corner e poi reclama un penalty per cui si becca anche un giallo. Finisce 0-0 un derby dal sapore antico che manca da diversi anni in campionato ma sempre di grande fascino. Finisce anche il ritiro a San Giovanni Rotondo per la Fidelis a cui il tecnico Panarelli ha concesso due giorni di riposo prima del ritorno in campo lunedì poveriggio per la seconda fase del precampionato biancazzurro.